ecco qua ci troviamo a largo dei teghi qua c'è palazzo giusto alle nostre spalle praticamente qui la scuola lì c'è la chiesa e la sede del vescovo alfano qui c'è il pub per far capire dove siamo è veramente impressionante guardate qui in genere sono sempre delle auto parcheggiate se succedeva di giorno con le scuole aperte poteva succedere qualcosa di brutto però per fortuna è successo nulla ecco siamo sui posti siamo qua mascherina ce l'abbiamo questo momento siamo solo noi documentando lavoro per lavoro non so se da questo versante possiamo riuscire a passare qui non è pericoloso però diciamo facciamo attenzione a far capire i nostri lettori che è successo la notizia sul posto rispetto è allora più di questo meglio non c'è proprio un burrone guardate non riusciamo a capire bene che c'è è proprio non so questa è la situazione questa è la scuola per capire dove siamo la dietro palazzo giusto è questa la sede del vescovo poteva essere cerchiamo di capire non ci possiamo avvicinare per ovvi motivi anche notte ok Grazie a tutti.